Sono 2.327 gli incidenti stradali che si sono verificati in provincia di Salerno nel 2021, aumentati del 30% rispetto all'anno precedente. I decessi sono stati 50, quasi il doppio del 2020. A rendere noti i dati, l'ACI Salerno, con il report annuale in cui vengono evidenziati anche le strade e i comuni più a rischio. Il maggior numero di incidenti e feriti è stato registrato a Salerno, ma anche Battipaglia, Eboli, Capaccio Pestum, Ponte Cagnano-Faiano, Scafati, Nocera Inferiore, Cava dei Tirreni, Agropoli, Nocera Superiore e Pagani. Il maggior numero di morti è stato registrato a Salerno, Eboli, Nocera Inferiore, Campagna, Casalvelino, Capaccio Pestum, Ponte Cagnano, Scafati, Agropoli, Pagani e Pietri sul mare. La fine delle limitazioni alla circolazione dopo l'emergenza pandemica del 2020 ha determinato una brusca impennata di incidenti che si traduce in un picco di morti e feriti, ha sottolineato l'ACI Salerno. Nel 2020, anno dello scoppio della pandemia, gli incidenti furono 1.791 nel Salernitano, l'anno successivo 536 in più e quasi raddoppiati morti, 31 nel 2020, 50 nel 2021. C'è stata anche un'impennata dei feriti che ha raggiunto quota 3.455, ben 768 in più del 2020. Le strade con più incidenti sono risultate essere quelle urbane, le più pericolose, le provinciali, le regionali e le statali. Le autostrade invece sono quelle più sicure. Il mese con più incidenti è stato agosto, il maggior numero di morti c'è stato invece a giugno, mentre d'inverno gli incidenti sono diminuiti anche del 60%. Il 55% dei sinistri è avvenuto sui rettilinei, il 20% agli incruci, il 13% in curva. I feriti per la stragrande maggioranza sono compresi nella fascia 18-29 anni e 30-54. I morti invece in quella 30-54 e al di sopra dei 65. Relativamente alle cause, spiegano Daci e Salerno, molti le ritengono legate alle intemperie e invece sono legate prevalentemente a comportamenti scorretti. Occorre investire molto di più sulla sicurezza stradale, dicono, e su campagne di sensibilizzazione. Noi, concludono, faremo la nostra parte nelle scuole e nelle autoscuole e siamo disponibili ad un confronto approfondito con gli enti proprietari delle strade, con le forze dell'ordine e con chiunque voglia approfondire la tematica.